dobbiamo scaldare un pelino salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale siccome ho provesso a mio fratello che gli insegnavo a partire in moto e visto che ho quei campi dietro casa il secondo gli insegnerò almeno a partire in moto oddio che bell'argine c'è in sto campo no ragazzi no non posso niente ragazzi non so dove sia la chiave del cancello quindi andiamo alla vecchia siamo saliti si è pronto ma devi metterti quel casco qua per con microfono attaccato per te che non mi ricordo neanche come s'allaccia il casco andiamo bene proprio bene io non so anche se ci tocco prima cosa iniziamo col salire sulla moto e vi ho porca trotta o ma ci tocco circa io il freno io ho la frizione tirata pensando che sia il freno della bici ma non è il freno della bici prima cosa da fare togliere il cavalletto ok adesso tiri fuori la pedalina tira la frizione che non so se l'ho messa in marcia iniziamo bellone ok facciamo che l'accendo io metti la prima ok adesso molla il freno davanti ascoltami prima di farlo dai un pochettino di gas molli piano piano la frizione non mollarla tutta ok molla piano piano dai un po' più di gas buona tira la frizione ho detto di non mollarla tutta mi cade mi cade come ti cade ok ci sei? prima ok tira via il piede dalle marce tira un po' su di gas adesso molla piano piano vai vai tina su così devi dare un po' più di gas ok dai un po' di gas vai vai buono tira la frizione fermati tira la frizione sono un pro però sei partito è già tanta roba ora per fermarti eh tiro la frizione tira la frizione schiaccia il freno dietro non ho bisogno di quello davanti ok? mollate la frizione troppo in fretta devi accompagnarla alla frizione non aver fretta di fare le cose accompagnala cera un po' stai col piede in terra non ti preoccupare lascialo appoggiato lascialo giù il piede così vieni avanti mollala piano vieni avanti così vai vai adesso tira la frizione non aver paura della terra no il freno il freno vieni avanti tira la frizione buono accompagna sempre la frizione accompagnala devi giocare con il gas e la frizione devi dosarli giusti ti piscia tutto allora ricapitoliamo tieni la frizione mettila prima adesso devi giocare con gas e frizione accedi un pochino e accompagni piano la frizione dai che ci sei non mollarla tutta la frizione tienila lì vai così non ti preoccupare ok molla l'acceleratore tira la frizione metti giù il piede e ti fermi visto? ottimo se tu non molli la frizione anche se dai un po' più di gas non parte la moto non ti preoccupare ma anche vada molli il gas se vedi che parte troppo tiri la frizione buono vieni di qua a sinistra gira un pochino di qua vieni vieni vai così che vai bene ottimo non aver fretta di accelerare buono smuola il gas e tira la frizione vai dai un po' di gas ancora gas buono accompagnala la buca la buca c'era mazzo buono ottimo adesso fermati ok adesso zilli qua un po' mi viene avanti mi viene avanti mola un po' la frizione accelera mi viene di qua non ti preoccupare mi viene in terra stai appoggiato vai vai gas 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 vai mola un po' la frizione dai gas non aver paura buono tira la frizione perché non toghi tanto per terra adesso fai una cosa arrivare in là parti ti fermi parti ti fermi ok buono prendi la larga non ti preoccupare dai che ce la fai buono ah l'importante è che non vada giù dall'argine bravo vai mi raccomando ragazzi queste cose le fate sempre nei campi privati anche se non dovrei dirvelo si schianta contro l'albero si schianta contro l'albero cade non sa cosa ho fatto non ce la faccio sono troppo la forza di un cassero morto non ce la faccio no 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 come si fa ma hai capito tutto eh ma chi utila sta benzina cosa serve eh no come fa ad andare avanti se tu do la benzina ah hai ragione buono non aver fretta rallenta e gira vabbè vabbè vengono sopra girati ottimo aspetta posso metterlo in folle com'è che si mette in folle metti in seconda come in seconda dai un leggero colpettino dai un leggero colpettino in seconda così è prima ma metti il piede sopra metti il piede sopra metti il piede sopra metti in folle ah ma doi sei a colpettino entra meglio eh l'ho fatto l'ho fatto buono giù il piede così a girare va bene allora giriamo con la frizione lasciamo pian piano e diamo un po' di gas ottimo è entrata anche a fermarsi provare a disegnare un po' di otto immaginarsi tipo da qua vai lì sulla sinistra sieri a destra da là fai le diagonali così ti fai un otto così impari a fare le furze a destra faccio un otto come se dovessi disegnare un otto per terra così giri un po' a destra un po' a sinistra esagerato è mollata la frizione in fretta ma sai che io prima stavo giù col piede sinistro adesso sto giù col piede destro e boh è diverso ma adesso a fare gli otto si e impari a giocare con la frizione impari a giocare con la frizione con l'acceleratore e a mettere giù il piede a destra e a sinistra vai buono non avere fretta vai vai fai neanche più larghi prendi anche tutto il campo gira intorno agli ulivi là in fondo buono taglia qua in mezzo in diagonale buono gira gira vai vai prendi la larga buono vai fino all'uliva là in fondo e poi gira ottimo ottimo sta andando bene vai buono largati così che va bene buono ottimo come sta andando secondo te bene mi piace ti divertendo bravo buono ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un like commentate iscrivetevi al canale e nel prossimo video inizieremo a cambiare le marze io direi che come partenze se la sta cavando più che bene e poi è tutta questione di continuare a provare riprovare riprovare e poi pian piano ci si prende l'abitudine quindi ragazzi detto questo ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao